Buongiorno a tutti, allora, 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 magliettina nera azzurra perché a Galassia nera azzurra, il gruppo che sto seguendo, i due gruppi principali, poi c'è anche l'Inter Club Boninsegna, ce ne sono tanti altri, ma tendenzialmente quelli più gettonati, tra virgolette, è Mister G Inter, occhi nera azzurri e Galassia nera azzurra, poi c'è anche l'Inter Club Boninsegna che ve lo consiglio e poi ci sono tutti gli altri gruppi, però devo dire che Galassia nera azzurra e Mister G di solito mi regalano sempre delle chicche e in Galassia nera azzurra c'è un ragazzo che scrive poesie divertentissime e quindi ho beccato sia questa che quella che ha fatto Bella Fresca oggi e quindi adesso ve le decanto in maniera gigiuna, ma bella e grecanto, la prima è una dedica appunto al gruppo Galassia nera azzurra e dice Galassia nera azzurra è il mio sito preferito per descrivere sto mito e ci sono affezionato, a sto gruppo innamorato e tra i commenti costruttivi tanti sono belli e vivi, io ci scrivo le poesie per le vostre gioie mie, qui la fede è l'essenziale ed il gruppo è funzionale, anche a voi della gestione complimenti alla passione, per la tanta delizione qui a Galassia c'è emozione e se per pur qualcuno posta battutina la risposta noi facciamo gli indifferenti con il sorriso in mezzo ai denti, questo sito è affascinante, io le leggo tutte quante, mi soffermo poi a capire dell'amore e del soffrire, del valore al sentimento, dal tifoso poi lo sento e subentra anche la rabbia che poi a volte poi ci ingabbia, eh sì, ma sto cuore, ma sto cuore a comandare e noi che ci possiamo fare? A Galassia tutto regna ma una cosa è tanto degna, questo è un gruppo tanto unito che sostiene il proprio mito e lo fa coeducazione per amor del suo bicione, a Galassia c'è di tutto, il rispetto soprattutto, se manca quello ragazzoli e poi dico a brutto muso esci fuori gobbo intruso e direi anche diavoletto intruso, quel solo aggiungo io, sia il gobbo che il diavoletto, fuori a Dibal, naturalmente si conclude sempre con Amala, pazza intera Amala, vabbè lasciamo perdere, veniamo alla seconda poesia, il pollo ed il bollito, nel pollaio dei bianconeri ci sono polli bianchi e neri, quello nero che ha tradito ora in coppia col bollito, per guidare una difesa di un pollaio che tanto pesa, per sentito dai giornali salveranno tutti i mali e se fanno coppia fissa, poveracci a chi fa rissa, nel pollaio dei bianconeri due suoi polli forti e veri, uno al cane bianco e nero, cane gobbo per davvero, l'altro sposta gli equilibri e lo legge anche sui libri, uno è sempre di parola ma il soldo gli fa gola, l'altro in piedi in panchina e lo fa dalla mattina, aspettando poi di entrare non si sa per cosa fare, stanno bene come po coppia, Dio li fa e poi li accoppia, nel pollaio dei bianconeri ci sono tanti desideri, ce n'è uno che è finito, non capisce che è bollito e quell'altro che ha dorato sarà presto lui infornato, ma il duo è già perfetto, gli hanno già vinto lo scudetto e l'infame vuol la coppa pur stanno un'altra toppa, ma chi cura stipolai, stipolai, soprattutto i giornalai che ne fanno una poesia, che tristezza mamma mia, ma va bene pure questo, aspettiamo tutto il resto, con due pauli a questo stampo spero tanto ancorché campo. Bene ragazzoli, vi ho fatto le poesiole del ragazzo di Galassia Nerazzurra che sono veramente da doppia libidine coi fiocchi, naturalmente faranno girare i testi ai bianconeri e rossoneri eccetera eccetera, ma noi che ce ne fotte, noi siamo interisti. Bene ragazzoli, detto questo, due paroline sulla questione della partita dell'Inter con il lenz, 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 ho anche sputacchiato. Abbiamo preso un gol al novantesimo da Curucu, lì è il solito gol di sfiga, che questo si inventa la pallombella del sabato sera, c'è la febbre del sabato sera, c'è anche la pallombella di culo del sabato sera, però quando sono entrato i carichi pesanti li abbiamo messi sotto, Lautaro si è mangiato un gol anche lui in maniera incredibile, quell'altro uguale, quell'altro uguale, poi prendi il gol da Pirla, scusate il francesismo, il milanesismo, perché il Pirla, uè Pirla, uè che te stai fa Pirla, il Pirla è tipico milanese, no? Dare del Pirla è milanese, quindi, siccome sono 40 anni, 42 anni, no, 44 anni che sono stato a Milano e adesso sono dieci anni che sono al lago, quindi posso dare del Pirla, abbiamo preso un gol da Pirla, abbiamo sbagliato dei gol da Pirla e questa non è una novità ragazzi, io da quando seguo Lincoln, ma anche da quando ho iniziato a studiare un po' la storia dell'Inter eccetera eccetera, i gol sbagliati da Pirla, i gol presi da Pirla sono nel DNA nerazzurro, partite che domini, partite che sei 1-0, poi gli ultimi minuti ti siedi sul velluto e prendi due gol da Pirla, c'è stato un derby clamoroso, stavamo vincendo 2-0, due calci di punizione di De Vecchi e l'abbiamo preso nel puli 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 puff al tacchino, se non ero l'anno dell'auscudetto del Milan 78-79, se non ero, ma sto andando a memoria, comunque due gol di De Vecchi, De Vecchi, o Vecchi, o Vecchi, o De Vecchi, quel che era, noi stavamo vincendo 2-0, due calci di punizione, curucù e 2-2, con la Nerossi Vicenza uguale, gol al 91esimo, loro stavano vincendo 1-0, abbiamo preso il gol al 91esimo, perché quell'anno lì la Nerossi Vicenza fece il campionato che non perse 30 partite, non perse mai, una marea di pareggi e uno anche con l'Inter al 90esimo, l'andata finissero a 0, se non erro, quindi che l'Inter si mangi gol e c'è, la dobbiamo finire, abbiamo 5 occasioni da gol, dobbiamo farne 6, uno se lo fanno loro da soli, gli avversari, no, noi no, noi dobbiamo creare 30 occasioni da gol e poi perdere 2-0 con gli altri che fanno 5 azioni in tutta la partita, come col Sassuolo, avete perso col Sassuolo, sì, ma vanno a vedere la partita, cazzo, una partita doveva finire 6-2, e se sbagli, paghi, la dura legge del gol, e lì è uguale, il primo tempo abbiamo sofferto, per forza c'era, avevamo la difesa, c'erano 3 terzini a fare i difensori, c'era D'Ambrosio a fare il centrale, D'Armiano e Di Marco, non lo so, ditemi voi che è il difensore dei tre, forse d'Ambrosio, proprio esagerando, e infatti hai preso due gol da Kuruku, no, non hai preso il gol da Kuruku, hai sofferto però, Samir ha parato, stranamente se è risvegliato Samir si è messo a parare, poi sul gol non poteva farci niente, gli è venuta fuori la palombella del sabato sera, non la prendi più, e subito critiche, che schivi, vemi imbi, vemi imbi, c'è tutti i messaggi del somaro, c'è il mio amico, non ne può più, gli dico, ma mandano a Fufulla, poi lo istiga, no, perché poi dopo quell'altro mi viene a dire, ma guarda che quell'altro mi ha detto di peggio, ma perché lo istiga, no, siamo scarsi, quello ci crede, e poi mi stressa a me, e io glielo continuo a dire, non me lo istigare, mandalo a Fufulla, fai come me, lo mandi a Fufulla, perché io ormai di spiegare le cose agli asini mi sono rotto le palle, io le cose le spiego una volta, una volta che te le ho spiegate, non andare avanti a rompere i testi, ti ho già detto, sei un tifoso dell'Inter, e l'Inter si tifa, sia che lotta per lo scudetto, sia che lotta per il quarto posto, sia che lotta per andare in conference, e sia malauguratamente, non capiterà mai, ma è successo, ma abbiamo vinto la Coppa UEFA, e ripeto, ci faccio la firma, se mi dicono, l'Inter arriva a sedicesima, ma vince la Champions, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, mi dite dove devo firmare, che firmo, facciamo 10 vittorie e 6 pareggi, no, 10 vittorie e 10 pareggi, va, 40 punti giusto per salvarci, però si vince la Champions, 4 a 0 in finale contro il Paris Saint Germain, e poi si vince la Coppa Italia vincendo 6 a 0 sulla Juventus, per dire, non so se giochiamo con la Juve o chi in semifinale, non mi ricordo, no, dovremmo essere dalla parte, con il Milan, in finale ancora 6 a 0 al Milan, e Supercoppa Italiana 10 a 0 ancora al Milan, proprio apposta, però arriviamo con sedicesimi in campionato, chi se ne frega, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, fa niente se non vinciamo la Stella, ditemi dove devo firmare, oddio, comunque quell'anno lì arrivamo quattordicesimi, tredicesimi o quattordicesimi, vincemo la Coppa UEFA, io per una Coppa chi se ne frega del campionato, intanto ne abbiamo 19, invece di Champions ne abbiamo solo 3, andiamo a fare la quarta, che la quaterna è sempre bella, perché tutti disperati, oddio, l'Inter si tifa a prescindere, io la seguo negli anni 80, vedi la gazzetta, obiettivi dell'Inter, possibilità di scudetto 20%, 20-25 proprio esagerando, si lotta per andare per ottenere un posto in Coppa UEFA e andare a più avanti possibile nella Coppa Europea, questi erano gli obiettivi e nessuno rompeva i coglioni, adesso no bisogna vincere lo scudetto, è un obbligo, leggevo se in Zaghi quest'anno non vince lo scudetto se ne deve andare perché non ha voluto Dybala, ragazzi anch'io volevo Ronaldo, ma per avere Ronaldo che in 4 anni mi gioca 36 partite, cioè 9 a scampionato, io preferisco un Correa che gioca teoricamente tutte le partite, per avere un Dybala che gioca, non lo so, 18 partite su 38, anzi più aggiungendo la Champions sono altre 6 minimo fan 44, aggiungici la Coppa Italia che spero di arrivare almeno in semifinale, sono altre 4, sono 48 ma ne gioca 18, preferisco avere qualcuno che è integro, come si suol dire è meglio un asino sano che un purusangue zoppo e siccome Correa non è un asino, c'è solo dare una svegliata ed essere più continuo perché tecnicamente è tanta roba, il problema è Zecco ragazzi, il problema è che negli anni non glieli puoi togliere e se lo usi per giocare 20 minuti, li bidine perché lui entra ed è già bello fresco, ma se lo devi usare in sostituzione di Lukaku se malauguratamente questo si fa male ai mondiali e sta fuori un mese, un mese e mezzo, sono uccelli per diabetici, o giochi con Correa Lautaro e si danno una mossa però devi giocare, diventa dura con le difese molto chiuse e se no devi giocare con Lautaro e Zecco e sai benissimo che si trovano come Malgioglio con la figa, cioè non c'entrano niente, fanno fatica perché comunque Lautaro deve riuscire a interagire con un giocatore che ama anche lui venire indietro a prendere la palla, poi ci troviamo con i due centri avanti che vengono indietro e ora che la porti avanti, che loro si buttano dentro, le difese sono chiuse e ti trovi la linea Maginot e fai il curucu, viceversa se entra a partita in corso lui si butta in area, si spera, anche perché probabilmente saremo in forcing e magari è la volta buona che, o magari gioca con Correa con cui magari si trova meglio, non lo so, d'altronde gli attaccanti sono quelli che sono da libidine, però non puoi giocare con Lautaro e Lukaku forever and ever, ogni tanto devi far giocare anche gli altri due e poi eventualmente in caso di necessità fai giocare Lautaro e Lukaku, soprattutto quando giochi con le medio piccole che si spera non ci sia bisogno delle, però abbiamo una bella squadretta, se tieni Skrignal e ti porti a casa un difensore decente e non a Berci, perché veramente a Berci no, a Berci non lo voglio come lo chiama il buon catto, ti porti a casa un difensorino, se arrivasse Milenkovi sarebbe il care Grazia Sant'Antonio e poi devono decidere cosa fare di Agumet e se va via Agumet prendere un altro centrocampista magari anche datato, che non costi tanto, che dia un po' di certezza, adesso io nomi non ne faccio e lascio lavorare il buon Marotta, poi per quanto riguarda la proprietà vedremo cosa vogliono fare, ma anche lì io continuo a sentire eh dobbiamo cambiare la proprietà, no, c'è da cambiare niente, non c'è da cambiare niente, c'è da trovare sponsorizzazioni e portare ad alzare il più possibile il nostro fatturato, perché anche se arriva quello coi soldi non ce li può mettere, perché è sempre in base a quanto fattura la società, non a quanto si fattura il proprietario. Detto questo ragazzoli vi saluto, vi ringrazio perché mi sono dilungato troppo, ci vediamo la prossima, ciao!